un cavolfiore faccio bollire una pentola d'acqua con del sale sbollento il cavolfiore per 5 7 minuti sbatto un nuovo mischio del pan grattato con qualche cucchiaio di formaggio grattugiato ungo una pirofila e una pirofila ed inizio ad impannare i pezzi di cavolfiore ok 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 un forno caldo a 170 gradi per 30 35 minuti ok 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 Grazie a tutti.